davvero pensavate che bastassero una canzone e due pirouette siete nove a noi ne servono quattro se pensavate di venire qui a farvi dei nuovi amici preparatevi a trovare dei nuovi nemici le vere audizioni iniziano oggi cazzo raga il sistina non sono degno io invece si entriamo come si chiama chi chi tommaso sarai uno splendido avvocato e troverai il modo di praticare il tuo hobby lasciatemi bene prego avanti lasciatela fatelo ora si chiama recitare il bacio di ieri mi fa sembrare questa una recita sì e non ho una ma ben due mamme e si sono contro natura infatti riesco a fare anche questo guardate quindi sei etero ma le etichette le etichette certo se sapessero quello che le aspetta quelli di voi che sono stati scelti riceveranno un messaggio sul cellulare di quanto tre settimane è bella dopo che pare tu invece la schifa non fa un culo quei ragazzi si stanno facendo il culo per questa grande occasione credimi quei nove sono la mia grande occasione molto di più di quanto io sia la loro sai di tutte le cose giorni interi l'hai provato anche tu quando sei salito su quel palco hai sentito anche tu che non saresti mai più voluto scendere mi spaccherò in due ed è un grandissimo onore essere provinato da lei cucciolo ti si vede ancora un pezzo di lingua che pensola pura trotte pura trotte